La Sillaro nasce alla fine degli anni Sessanta come azienda di imballaggi in cartone. Quando il management decise definitivamente di ritirarsi, dieci anni fa esattamente, noi decidemmo di entrare e vivere questa nuova esperienza. I nostri clienti acquistano i fusti che produciamo per il contenimento del filo, per la saldatura, per il contenimento delle polveri di tipo industriale. Da 40 anni a oggi ho visto la Sillaro migliorarsi nel prodotto soprattutto, nella qualità e nella disponibilità a servire il cliente. Serviamo aziende di tipo farmaceutico, chimico e anche alimentare. La Sillaro resta una piccola azienda familiare, allo stesso tempo ha una mentalità e un approccio industriale. Abbiamo avuto l'opportunità di avere la base solida di persone brave, esperte, che conoscevano il settore. Siamo molto uniti, diciamo noi, non lo so, io mi riconosco anche come una grande famiglia. Quando abbiamo iniziato questa avventura eravamo una piccola realtà. Sillaro oggi è un'azienda con certificazione di qualità. A questo ci siamo arrivati attraverso un costante processo di migliorie tecniche, di nuovi investimenti, nuovi macchinari, nuove attrezzature. Permettendo così di produrre prodotti sempre più qualitativi, rendendoli più interessanti i nostri clienti. Il successo è arreso solo agli imprenditori che si sono dedicati con grande entusiasmo al raggiungimento dell'operazione. La forza è quella di crederci sempre, di cercare di migliorare costantemente.